La Camera di Commercio Chieti Pescara ha premiato l'imprenditoria femminile. Questa mattina nella sede dell'ente a Pescara si è svolta la consegna dei premi Impresa in Rosa che storia ed Impresa in Rosa che idea. Il concorso promosso dal Comitato per l'imprenditoria femminile, giunto alla sua settima edizione, premia la storia all'idea di impresa più innovativa con un assegno di 1000 euro per ciascuna attività e la possibilità di poter fruire dei servizi e della consulenza dell'ente. La cerimonia di consegna è stata anche l'occasione per la proiezione di un cortometraggio ispirato alle storie vincitrici delle passate edizioni, scritto e diretto dal giornalista Luca Pagliari con la colonna sonora del musicista di fama internazionale Mario Stefano Pietro D'Archi. L'imprenditoria femminile sta crescendo e sono convinto che crescerà sempre di più. e il nostro caso qui su Chieti Pescara abbiamo avuto la fortuna di avere come presidente del Comitato per l'imprenditoria femminile la dottoressa Ferrone che è un vulcano di idee e una grande imprenditrice per cui riesce a fare squadra intorno a sé e a mettere in evidenza anche delle eccellenze come quelle per esempio che andiamo a premiare oggi. L'imprenditoria anche donne perché le donne sono capaci di fare imprenditoria nella stessa misura in cui lo sanno fare certi uomini e certe donne perché l'imprenditoria è una vocazione, la vocazione ce la può avere sia un maschio che una donna. Sono premi non di grandi valori, sono premi che tendono a incoraggiare l'imprenditoria femminile. Noi abbiamo necessità di diffondere, di contaminare tutto il territorio affinché le imprese capiscano che si possono cimentare in situazioni, in idee, in innovazioni che sono prettamente dell'imprenditoria in genere e con particolare attenzione a quella delle donne. La storia è la storia di un merletto che racconta di me, racconta di questa vita che è un'avventura che ha avuto battute d'arresto e di ripartenza. La battuta d'arresto grande è stata quella del terremoto, quando andava secondo un determinato bellissimo corso, c'è stata la seconda battuta d'arresto, quella che abbiamo avuto tutti e di nuovo una ripartenza, una ripartenza legata anche a tanta solidarietà e tanta determinazione.